Banderina, fallo a giro, scopo di giro, e' gol, 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 e' Sì, 3 a 2, Adriano, Adriano, sì, sì, Adriano, 3 a 2, sì, Niccolò, pensa grande, colpo di testa, difesa piazzata, il mancio che salta, sì, 3 a 2, manca un minuto, forte ragazzi. Manca un minuto, forza ragazzi, grande testata, Adriano, che anticipa proprio ieri, la mette dentro, forza ragazzi adesso, mordere, 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 è finita! Interbattemila 3 a 2, Interbattemila 3 a 2, sì!